Un episodio inquietante ha scosso oggi una tranquilla mattinata di inizio settimana a Pescara. Mancavano pochi minuti alle 9 quando una dottoressa cinquantenne è stata aggredita presso l'ex clinica Baiocchi, sede del distretto sanitario di base della ASL di Pescara che si trova in via nazionale Adriatica Nord. La donna psichiatra in servizio presso il centro di salute mentale stava prestandosi ad entrare al lavoro quando è stata improvvisamente affrontata ed aggredita alle spalle da un uomo con un martello. Le urla della poveretta hanno attirato l'attenzione di alcune persone che stavano passando e che hanno immediatamente allertato il 118 e la sala operativa della questura immediato agli intervento degli agenti delle volanti e dei sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla donna ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. Il presunto autore dello sconsiderato gesto sarebbe una persona che avrebbe avuto a che fare in passato con la professionista del fatto è stata interessata l'autorità giudiziaria.